Ero in un momento in cui ero indeciso se continuare, lottare per quello che avevo sempre sognato, o abbandonare tutto, o quello che la vita mi ha tolto, io voglio regalarlo alla gente, voglio portare gioia, felicità, divertimento e soprattutto spensieratezza, quello che per tre anni è mancato a me. Altra storia, cambiamo regime, adesso ascolterete un Francesco, lui non lo sa, non l'ho ancora proprio completamente concretizzato, ma Francesco è qui su questo palco grazie alla sua storia, lui ha fatto questo escursus di passione, di amore per la musica e poi è diventato matrimonio travolgente. Ma perché è matrimonio travolgente? La sua storia non è una storia felice. Francesco, a 21 anni, subisce una roba devastante, perde il papà. Sì, diciamo che all'improvviso era... Perdi il papà in un incidente stradale, ma al di là di questo, al di là di questo, è quello che accade dopo, no? Il lutto, il dolore, ma è quello che accade dopo, un uomo, capofamiglia, che viene a mancare. Cosa accade? Accade che non c'è più il sostentamento economico, non c'è più la serenità, la sicurezza economica, non c'è più quella facilità di muoversi, di vivere. E Francesco però ha ancora forte una passione. Sì, nel senso che io dicevo, ero al primo anno di università e purtroppo questo avvenimento è stato come un fulmine, no? Perché io mi ricordo ho preso il treno e ricordo che quel giorno avevo dimenticato una cosa e mio padre con la moto me l'ha portata, è stata purtroppo l'ultima volta che l'ho vista, l'ho visto, e poi un giorno all'università dovevo fare un esame e mi hanno chiamato che aveva avuto un incidente stradale, in realtà non mi hanno detto cosa era avvenuto realmente. Io ho fatto tutto il viaggio di ritorno sperando che, anche se avevo immaginato, e poi quando sono arrivato in stazione a San Salvo mi hanno detto che purtroppo era deceduto. e poi cosa è successo? Che in quel momento praticamente io inizialmente volevo prendere il posto di mio padre perché mio padre lavorava in fabbrica, faceva l'operaio, quindi ero in un momento in cui ero indeciso se continuare, lottare per quello che avevo sempre sognato da sempre, da piccolo, o abbandonare tutto, prendere il posto di mio padre per dare sostentamento a mia mamma. E c'è stato un periodo in cui io quando tornavo dall'università per prendere il treno, piangevo nel treno, anche da solo, in silenzio, a volte non lo facevo davanti a lei perché, diciamo, per dare forza a lei, no? Certo. Però questa è stata, da una parte, mi ha fatto molto male. Diciamo, è una cosa che non auguro a nessuno, perché è un qualcosa che ti lacera dentro. Io in due anni, quei tre anni, praticamente ho annullato tutto, diciamo, non avevo più amici, non uscivo, zero, niente. E l'unica cosa che facevo quotidianamente era cantare, andare in accademia musicale, suonare. Quindi per me la musica era diventato, diciamo, un rifugio. Un rifugio, però sognavo, ricordo, quando prendevo il treno da Pescara, il lunedì io stavo in accademia fino alle undici di sera, prendevo l'ultimo treno, a volte per suonare neanche mangiavo, e quando riprendevo quel treno, sognavo, visualizzavo quello che sta accadendo oggi. E piove sul bagnato, perché a un certo punto Liliana scopre di non stare proprio bene, giusto Lili? Eh sì, non stavo tanto bene di salute, perché mi sono lasciata andare, perché ho avuto... Basta Lili, basta, basta, basta. Non voglio toccarti qui, non voglio toccarti. Liliana scopre di avere un problema ai denti, non diciamo neanche cosa, non voglio che si emozioni, ok? Aveva un problema importante ai denti, e mi ha raccontato Francesco che scoprono di avere, però tra le tante sfighe, una fortuna, di avere un'assicurazione, cazzo, una cosa buona nella vita, dei soldi. Sì, perché noi un giorno praticamente, era il 2006, l'anno dei mondiali, no? Ricordo mi mancavano due esami all'università, scendo giù per giocare a pallone, tiro due cacci, mi rompo una gamba, ok? Allora mia mamma dice, così all'improvviso, che praticamente avevamo un'assicurazione sull'infortunio sul tempo libero, mi pare, no? Sul tempo libero, sì, sì. Io lì per lì ho detto, vabbè, lascia stare, poi lei è il tipo come che va sempre nel profondo, nel dettaglio approfondito, effettivamente era così, e praticamente dopo un po' abbiamo ottenuto un rimborso, ok? Sono arrivati dei soldi a casa, e questi soldi potevano essere spesi in due modi, potevano essere spesi per curare i denti di Liliana, giustamente, Francesco voleva questo, e il tuo mentore invece che cosa ti ha detto? No, sì, perché lei praticamente quando mangiava era una sofferenza atroce perché non riusciva davvero a masticare nulla, io le ho detto, quei soldi devi prenderli, servono per te, per la tua salute, per migliorare la tua vita, no? E tutto quanto, e lei mi disse, no, no, i soldi servono a te per costruire il tuo sogno, per iniziare a costruire il tuo sogno, e praticamente io con quei soldi ho comprato il primo impianto, audio. Oggi, dietro al matrimonio travolgente, quale motivazione c'è, che perché c'è, cos'è che tu vuoi dare agli sposi, o cosa vuoi evitargli? Sì, allora io, la cosa più importante per me, questo va al di là, infatti lo ripeto sempre, anche al telefono, è una cosa in cui proprio credo, Allora io, il mio perché va al di là, al di là dell'aspetto economico, perché io, diciamo, quello che ho vissuto di negativo nella mia vita, di triste, voglio che gli altri non lo vivano, perché io in due, tre anni, vi dico, ho sofferto anche di depressione, e, diciamo, a volte non avevo neanche la forza di farmi una doccia, perché mi svegliavo a luna. Basta piangere, avete rotto le palle, siete arrivati. E oggi Francesco non ha creato questo naming a caso, non fa quello che fa, il metodo con il quale lo fa a caso, ok? Francesco vuole regalare sorrisi. La cosa più importante per me, il mio obiettivo, quando ero in quel treno, cioè sognavo che quello che io vivevo in quel momento di negativo, cioè quello che la vita mi ha tolto, io invece voglio regalarlo alla gente, voglio portare gioia, felicità, divertimento, e soprattutto spensieratezza, quello che per tre anni è mancato a me, è mancato a me, e la cosa più bella è vedere, cioè per me la cosa che mi rende orgoglioso è aiutare più persone possibili, non solo gli sposi, a far capire quanto è bella la vita, che nonostante ci siano le difficoltà, sono davvero pochi i momenti che noi abbiamo per festeggiarla, e credo che il matrimonio sia uno di quei momenti dove bisogna viverla alla grande, ogni attimo, ogni minuto, ogni attimo, e soprattutto, secondo me, la difficoltà anche valorizzarla, perché come lo è stato per me, può diventare un'opportunità di rinascita. Grazie, bravo, bravo.